Come ogni anno l'Istat ha pubblicato i dati del bilancio demografico della popolazione residente che viene calcolato sulla base dei flussi demografici, le nascite, i decessi, le iscrizioni e le cancellazioni per trasferimento di residenza registrati nelle anagrafi degli oltre 7.900 comuni italiani. Il bilancio demografico mostra la montare della popolazione a fine anno e ci fornisce una fotografia delle principali dinamiche demografiche. L'ultimo report pubblicato dall'Istat è relativo all'anno 2019. Come vedremo adesso attraverso i dati dell'infografica saranno mostrati i principali risultati emersi da questa rilevazione. Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia ammonta 60.245.000 residenti, di questi l'8,8% è cittadino straniero. Rispetto al primo gennaio del 2019 si è registrata una diminuzione di popolazione di quasi 189.000 unità, che conferma la persistenza del declino demografico che ha caratterizzato negli ultimi 5 anni, in cui abbiamo assistito alla riduzione del complesso di 551.000 unità. Si può affermare in un certo senso che la popolazione ha da tempo perso la sua capacità di crescita per effetto della dinamica naturale, quella dovuta alla sostituzione di chi muore con chi nasce. Infatti nel 2019 si registra un nuovo record negativo di nascite che non si era mai raggiunto dall'Unità d'Italia. I 420.170 bambini scritti in anagrafe non riescono a compensare gli oltre 630.000 decessi, determinando così un deficit dovuto alle componenti naturali di 214.000 unità. In passato, negli ultimi anni, questo gap negativo dovuto alla dinamica naturale era compensato dalle migrazioni. L'influenza positiva esercitata sul bilancio della popolazione dal fenomeno migratorio tuttavia negli ultimi anni si sta riducendo. I cambiamenti più evidenti riguardano la diminuzione degli ingressi di cittadini dall'estero, rispetto al 2018 abbiamo registrato un meno 8,6%, mentre un aumento il numero di cancellati per l'estero, più 16,1%. Tra questi sono aumentati i cittadini italiani che scelgono di emigrare all'estero, più 8,1% sul 2018. C'è tuttavia da ricordare che dei 126.000 italiani che hanno scelto di emigrare all'estero, una quota è rappresentata da cittadini di origine straniera, che una volta acquisita la cittadinanza italiana hanno deciso di proseguire il loro percorso migratorio in paesi terzi o di fare ritorno nel luogo di origine. L'Italia comunque si conferma un paese multietnico. I 5.300.000 stranieri residenti in Italia sono rappresentati da 194 cittadinanze, con romeni, albanesi, marocchini, cinesi e ucraini tra le prime 5 cittadinanze che nel loro complesso contano da sole quasi il 50% del totale dei residenti stranieri. Per concludere, si può quindi affermare che il calo della popolazione residente in Italia ha assunto le dimensioni di un vero e proprio declino demografico. Sono infatti cinque anni consecutivi che la popolazione residente diminuisce, raggiungendo un ammontare complessivo di 551.000 unità. Le immigrazioni non sono più in grado di compensare il surplus di decessi rispetto alle nascite.